Infine l'ultima domanda, il Miur ci dà una sua stima della costante K, ci dà anche le dimensioni dei due lati H e L e quindi dell'area S che è il prodotto H per L e ci chiede due cose, la velocità degli elettroni di conduzione del rame, quindi la velocità di deriva e conoscendo anche l'intensità di corrente elettrica 1A ci chiede la densità di carica per unità di volume presente nella strena di rame, cioè quanti coulomb ci sono per esempio per centimetro cubo dovuti alla presenza di tutti gli elettroni di conduzione. Per ricavare la velocità di deriva possiamo partire dall'uguaglianza tra la forza di Lorentz e la forza elettrica, l'abbiamo già visto prima, e la velocità di deriva risulta in rapporto dei campi, esattamente come accade in un selettore di velocità. Ora il campo elettrico si può esprimere come se fosse un condensatore, quindi la tensione di Hall diviso H, lo spessore della lastrina, e questa formula l'avevamo appunto vista prima. Anche il campo B lo possiamo esprimere come rapporto tra la tensione di Hall e la costante K, quindi B delta V di Hall diviso K. Semplificando risulta il rapporto tra K e H. La costante K ce la dà il miur, il valore di H è un millimetro, cioè lo spessore della lastrina, e perciò questo calcolo fornisce direttamente 9,1 per 10 alla meno 4, c'è da vedere l'unità di misura che ci aspettiamo essendo una velocità di deriva metri al secondo. E infatti è così, perché volt su metro lo ricopio, al posto di Tesla scrivo newton su ampermetro, metri si semplifica, al posto di amperre scrivo coulomb al secondo, volt per coulomb è joule, questo lo possiamo ricordare dalla formula dell'energia potenziale elettrostatica, U, U maiuscola, uguale a Q per V, quindi la particella carica per il potenziale, cioè coulomb volt. A sua volta joule è newton per metro, perché joule è l'unità di misura del lavoro, forza per spostamento. Semplificando rimane metri al secondo, 0,91 per 10 alla meno 3, cioè 0,91 mm al secondo, un valore estremamente basso, sappiamo infatti che il movimento degli elettroni nei reticoli cristallini di metalli avviene con grande fatica, con grande lentezza, per via dell'avanzamento molto difficoltoso degli elettroni nel reticolo. In questo caso gli elettroni non percorrono nemmeno un millimetro al secondo. C'era anche un altro modo per calcolare questa velocità di deriva come rapporto dei campi. Quindi siamo sempre qua, al campo elettrico sostituiamo ΔV su H, però al posto del campo B immaginiamo per esempio 0,100 Tesla, immaginiamo un valore a caso. E andiamo a stimare la tensione di Hall corrispondente a quel valore scelto di B. Utilizziamo la proporzionalità diretta di prima, quindi KB. Dobbiamo quindi moltiplicare il valore K, che è questo fornito dal Miur, per 0,100 Tesla e otteniamo 9,1 per 10 al meno 8 volt, che andiamo a sostituire quassù. Al posto di B, invece, mettiamo questi 0,100 Tesla e H è lo spessore della lastrina, che è un millimetro, quindi 10 alla meno 3 metri. Il 10 alla meno 3 lo porto sopra, diventa 10 alla terza. E tutto questo calcolo numerico fa 9,1 per 10 alla meno 4. L'unità di misura viene in metri al secondo, adesso vediamo perché. Abbiamo Volt diviso metro Tesla, al posto di Tesla N su Ampermetro, al posto di Amper, Coulomb al secondo. Otteniamo quindi le stesse unità di misura di prima, Volt e Coulomb fratto N secondo, Volt e Coulomb e Joule, stessi passaggi di prima con le unità di misura e quindi metri al secondo. 9,1 per 10 alla meno 4 metri al secondo. E così abbiamo calcolato la velocità di deriva degli elettroni. Adesso abbiamo detto la densità di carica, quanti Coulomb ci sono per centimetro cubo dovuti alla presenza di tutti gli elettroni di conduzione all'interno di questa lastrina di rame. Bisogna ricordarsi questa formula che ci permette di esprimere l'intensità di corrente elettrica in funzione del numero di portatori di carica per unità di volume, la carica di ciascun portatore, in questo caso elettroni, l'area attraverso cui passa la corrente e la velocità di deriva. Noi dobbiamo trovare il numero di elettroni per unità di volume. Meglio ancora, noi dobbiamo moltiplicare questo numero di elettroni per unità di volume per la carica di ciascun portatore perché il Miurre non chiedeva quanti portatori di carica ci sono per centimetro cubo ma quanta carica c'è per centimetro cubo. Quindi dobbiamo prendere i portatori di carica, gli elettroni, e moltiplicarli ciascuno per la propria carica. Ora, se noi volessimo trovare prima il numero di portatori per unità di volume con la formula inversa dovremmo sostituire quindi un Ampere alla corrente elettrica l'area H per L è 20 mm² e dovremmo svolgere questo calcolo ma noi dobbiamo poi rimoltiplicare per la carica dell'elettrone perché quello che ci serviva era la densità di carica per unità di volume non la densità di elettroni, la densità di carica indicata con la lettera greca ρ. Quindi quando moltiplichiamo per E rimane soltanto I diviso Svd. Quindi questo è il calcolo che dobbiamo fare la corrente elettrica diviso l'area attraverso cui passa la corrente 20 mm² e diviso la velocità di deriva 0,91 mm al secondo. I secondi si semplificano rimane Coulomb e rimane sotto millimetri cubi. Giustamente infatti il risultato sarà una carica per unità di volume Coulomb ogni millimetro cubo. Ci ho messo anche il segno meno perché gli elettroni sono cariche negative e quindi la densità di carica sarà negativa. Questo calcolo porta questo valore che è più comodo esprimere però in Coulomb al centimetro cubo. Siccome un centimetro cubo sono mille millimetri cubi ci sarà una quantità di carica mille volte maggiore quindi sposto la virgola di tre posti il risultato è questo. Ci sono 55 Coulomb di carica negativa dovuta agli elettroni liberi dentro il rame ogni centimetro cubo di rame.